Sono venuta a trovare i sette cucciolotti arrivati in canile senza la mamma, ve li ricordate? Entro da loro, come potete vedere la mamma non c'è, ecco ci sono solo loro vicini, la mamma non è mai più stata presa, l'hanno individuata però pare non si lasci avvicinare e quindi questi piccoli stanno crescendo in canile senza di lei, ricordiamoci di loro. Venite piccolini, allora vi ricordate ci sono i quattro bianchi e i due scuri, uno marrone l'altro nero focato, allora ricordiamoci un attimino anche perché poi presto dobbiamo fare, dobbiamo cercare un nome per loro, questo dolcissimo simil maremmanino e una femminuccia, dunque abbiamo una maremmanina femminuccia qui in canile, l'altro chiaro che qui più color crema e un maschietto tipo labradorino, un po' beige, bellissimo, poi ci abbiamo più, un altro simil maremmanino, però è più sul crema, maschietto, guardate che amore, e poi questo un po' sporchino, l'hanno sporcato i fratellini con le zante, un altro simil maremmanino, maschietto, quindi dei chiari, c'è solo una femminuccia e gli altri sono maschietti di cui uno ha pedocorto. In realtà i chiari sono cinque, vi ricordate comunque che i chiari erano cinque? Una femminuccia è a casa di una nostra volontaria perché purtroppo sin dal primo momento ha mostrato di non stare bene, respirava male e le è stato riscontrato del liquido nei polmoni e quindi sta facendo una terapia antibiotica e si deve tentare tutto per tutto per salvarla, quindi oggi non la vedete perché è a casa di questa ragazza splendida che collabora con il nostro canile che si presta per aiutare tutti i piccolini in difficoltà. Ricordiamoci anche dell'oscuro, quello che secondo me diventa tipo pastore tedesco ed è maschietto, maschietto nero focato, cucciolino dorato e il marrone, vieni qui, l'orsetto marrone e una femminuccia. In questo momento quindi abbiamo quattro maschietti e due femminucce. Eccoli qua questi piccolini strappati alla loro mamma, che peccato, stiamo facendo il possibile per farli crescere nel migliore dei modi. Speriamo bene i piccoli. Presto sceglieremo dei nomi per voi. Ciao morì. Ciao.